Dopo il collezionista di bambini, il cacciatore di ossa, la porta dell'inferno e la casa delle anime morte, torna il sergente Logan McRae. L'estate ad Aberdeen è una stagione crudele. Un sanguinario criminale ha preso di mira la comunità polacca della città, lasciandosi alle spalle una scia di vittime con gli occhi cavati e le orbite bruciate. Dall'est Europa si sta preparando un vero e proprio assalto alla tranquillità di Aberdeen, già sull'orlo di una guerra tra bande. Ed è a questo punto che il più pericoloso signore del crimine della città si fa avanti per trattare con McRae. Per risolvere il caso, salvare la propria vita e quella dei suoi cari, Logan dovrà decidere fino a che punto infrangere le regole. Il collezionista di occhi di Stuart McBride.